Calcio in primo piano, in particolare il calcio mercato, perché dalla Juve il Pescara ha preso a titolo definitivo il 23enne trequartista tunisino Rafiat, contratto fino al 30 giugno 2025. Al club bianconero spetterà il 50% sulla futura rivendita. Rafiat ha 68 presenze e 7 gol con la Juve Under 23, lo scorso anno anche 6 mesi in B con la maglia della Cremonese. È un calciatore non esplosivo ma di indubbie qualità tecniche, piede destro, ruolo naturale trequartista. Due anni fa, al debutto con la Juventus, decise il match degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, realizzando il gol del 3-2, era la Juve di Andrea Pirlo. Il direttore sportivo del Pescara, De Licari, ha dichiarato che in entrata il mercato termina qui, perché Rafiat può ricoprire tre ruoli, trequartista esterno d'attacco e mezzala e non è arrivato il mancino, ha aggiunto De Licari, perché abbiamo preferito puntare su un giocatore di piede destro forte. Intanto si va verso Pescara-Foggia in programma il match domenica prossima alle 14.30 con una sola novità, il rientro di Brosco nel cuore della difesa. Gli farà spazio uno tra Boben e Ingrosso, in attacco conferma per il tridente Cuppone Trupta-Kolai.